Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, siamo qui con Sony Xperia XA, un dispositivo che esteticamente mi piace veramente tantissimo a fare quello che è il classico test benchmark e gestione RAM, quindi andrò ad aprire adesso queste 6 applicazioni più quelle benchmark nel caso in cui gestisca tutte queste applicazioni bene e andremo a stressare quindi veramente tanto la RAM per vedere se chiuderà dal background le applicazioni apriamo quindi Chrome, andiamo su spazioitech.it lasciamo che carichi, eccoci qua ci siamo, quindi usciamo da Chrome e apriamo YouTube aspettiamo che anche YouTube carichi il, eccoci qua apriamo quindi Phoenix, ottimo cliente di Twitter e carichiamo gli ultimi aggiornamenti apriamo poi il gestore delle pagine lasciamo che carichi anche questo e così è e apriamo adesso Real Racing 3 aspettiamo che carichi il gioco, dopodiché andrò a chiuderlo e a vedere se le applicazioni fino ad adesso aperte rimangono in background quindi utilizzabili da dove le abbiamo chiuse o se invece vengono frisate, quindi alla riapertura si assisterà a un ricaricamento dell'applicazione stessa potete anche vedere la velocità di caricamento di Real Racing 3 che devo dire è veramente buona per il dispositivo ok, in questo modo chiudiamo Real Racing 3 riapriamo Chrome e come vedete già aprendo Real Racing 3 la RAM è stata praticamente distrutta ricaricamento di Chrome vediamo YouTube YouTube viene invece mantenuta in background vediamo Phoenix anche Phoenix viene mantenuta in background gestore delle pagine anche questa è mantenuta in background ma avete visto Chrome c'è stato un ricaricamento quindi riapriamo di nuovo Real Racing 3 e come potete vedere Real Racing 3 dopo che ho aperto le altre applicazioni viene ricaricato quindi una gestione della RAM veramente imbarazzante da parte di questo Sony Xperia XA devo dire che nell'utilizzo quotidiano si nota infatti spesso abbiamo qualche rallentamento quando andiamo ad aprire applicazioni particolarmente pesanti quindi il RAM di questo Sony Xperia XA bocciata purtroppo anche se in realtà nell'utilizzo quotidiano mi ci sto trovando veramente molto molto bene anche se come ribadisco ha qualche piccolo rallentamento ogni tanto qualche piccolo baghettino sicuramente migliorabile tramite aggiornamenti sperando che arrivino e adesso stoppo questo video faccio partire i test benchmark per vedere come effettivamente si comporta questo dispositivo come effettivamente si può Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti